Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video! Oggi sono qui per parlarvi di un caso che come al solito mi ha colpito molto. Mi avete richiesto questo video sul Google Docs, quindi iniziamo immediatamente a parlare del caso di Michelle Dixon. E come al solito partiamo con ordine. È il 16 luglio del 2008 e ci troviamo nella contea di Dalnotre, in California. È una grande comunità che si trova sulla ripida costa del Pacifico, a una superficie di 2600 km quadrati. La maggior parte è proprietà del corpo forestale e dell'impresa di legname. In tutta la contea c'è solo una città, ossia Crescent City, che è anche il capoluogo della contea. Si trova nella parte più settentrionale della costa californiana, ed è una città marittima che ospita due fari e una fauna variegata con leoni di mare, foche e pellicani. Alle 5.22 del mattino, appena a sud della città, sull'autostrada 101, un motociclista chiama il 911 per segnalare un incendio. I volontari dei Vigili del Fuoco accorrono sulla scena ed estinguono le fiamme. Dopodiché richiedono un'autopattuglia dall'ufficio dello sceriffo, perché quell'incendio è decisamente sospetto. Sono circa le 8 del mattino. La macchina è completamente distrutta e il vice sceriffo, arrivato sul luogo dell'incendio, si chiede cosa possa essere accaduto al conducente. Dà un'occhiata per vedere se sono presenti tracce di un corpo, oppure segni di violenza, ma non trova nulla. Quindi contatta la centrale e chiede di fare un controllo sulla targa del veicolo, scoprendo che quella macchina appartiene ad un abitante di Crescent City. Il veicolo, ossia un Honda Civic, è registrato a nome di Sandy Davis, ma lo usa sua figlia, Michelle Ashley Dixon. Il vice sceriffo quindi riferisce a Sandy che la macchina è stata trovata completamente bruciata, ma sua figlia non era a bordo. Ora però facciamo un passo indietro. Chi è Michelle? Nasce il 19 luglio del 1984 e cresce proprio a Crescent City. Da piccola è molto tranquilla, è una bambina brillante, e quando cresce, diventando adolescente, sviluppa un carattere davvero molto tenace. È una ragazza intraprendente, ama passare il suo tempo libero con i suoi amici e con il suo cane, un pitbull. Michelle è un po' uno spirito libero, ama uscire con persone nuove, ama conoscere persone nuove, ma è anche una ragazza molto responsabile e con la testa sulle spalle. Inoltre è molto intelligente. Si diploma alla Paragon Heights School nel gennaio del 2002, con ben due anni di anticipo, ossia a 16 anni. Frequenta il college di Redwoods mentre lavora come cameriera in due locali diversi, il Shippa Show e il Bistro Garden. La sua famiglia non è ricca, ecco perché Michelle lavora molto per riuscire a mantenere la sua macchina, per pagare le tasse scolastiche e, se riesce, anche per dare una mano con le spese in casa. I detective a questo punto interrogano la madre e il patrigno di Michelle. A quanto dicono, hanno visto per l'ultima volta la ragazza, la sera prima. Ha fatto la lavatrice, si è messa una tuta, ed è uscita dicendo che doveva aiutare un amico che aveva problemi con la macchina. Quindi Michelle esce la sera del 15 giugno alle 22. Passano le ore, per l'esattezza ne passano due e a mezzanotte inoltrata la ragazza non è ancora tornata a casa. Sandy, sua madre, prova a chiamarla, ma il suo telefono è spento. Inizialmente non si preoccupa troppo, è vero, Michelle le aveva assicurato che sarebbe ritornata a casa entro massimo un'ora. Però la verità è che Michelle è adulta, ha 22 anni, quindi potrebbe aver incontrato qualche amica, potrebbe essere andata con lei a bere qualcosa ed essersi dimenticata di avvisare, anche se è strano. Michelle è solita chiamare sempre, se è in ritardo. Non ama far preoccupare le persone che le vogliono bene, quindi solitamente si preoccupa di avvisare. Arriviamo alla mattina successiva, Sandy, la madre di Michelle, si alza e ancora prima di andare a preparare la colazione, si dirige verso camera di sua figlia per farle una bella ramanzina. Avrebbe dovuto avvisare del suo ritardo e non è un problema se rimane fuori, basta che avvisi. Sandy quindi apre la porta della camera di Michelle, ma di Michelle non c'è neanche l'ombra. Il letto è perfettamente in ordine, quindi sembra proprio che non sia tornata a casa neanche per dormire. Sandy quindi va a svegliare suo marito, gli dice che Michelle non è rientrata a casa e mentre la coppia sta cercando di capire come muoversi e cosa fare, suona il campanello di casa. Il vice sceriffo della Contea dopo aver riferito le informazioni principali alla madre di Michelle, Sandy, e al patrigno Darrell, entra in casa, si accomoda e ovviamente continua a fare domande alla famiglia della ragazza. Chiede chi è l'amico che Michelle aveva incontrato. Sandy sa che quel ragazzo si chiama Josiah, ma non conosce il suo cognome. Infatti Michelle ha una cerchia di amici che Sandy, sua madre, non conosce. La cosa però non la preoccupa affatto, insomma la ragazza ha 23 anni, di conseguenza sceglie da sola con chi uscire e con chi passare il suo tempo libero. Il vice sceriffo chiede a Sandy e a Darrell se hanno anche solo una mezza idea di dove potrebbe essere andata la loro figlia. E Sandy ipotizza che potrebbe aver passato la notte dal suo fidanzato, Matthew Salisbury. E tra l'altro, a quanto dice Sandy, Matthew potrebbe conoscere Josiah e quindi potrebbe anche conoscere il suo cognome. Così Sandy dà al vice sceriffo il contatto del fidanzato di sua figlia, Matthew. Il vice sceriffo, prima di congedarsi, dice alla famiglia di provare a contattare gli amici di Michelle. Magari, in questo modo, riescono ad ottenere qualche notizia importante, che potrebbe rivelarsi un indizio utile per le indagini degli investigatori. Sandy prova a contattare Michelle per tutto il giorno, ma il telefono risulta sempre spento. Neanche suona, scatta direttamente la segreteria telefonica. Nessuno dei suoi amici ha sue notizie e in ogni caso si curano di non averla né vista né sentita la sera precedente. È così che la scoperta della macchina di Michelle si rivela essere un caso di persona scomparsa. Gli investigatori si chiedono se l'auto sia stata incendiata per coprire un crimine, quindi ispezionano attentamente l'area in cerca di indizi. La ricerca però si rivela infruttuosa, non trovano nulla. Le ricerche in ogni caso continuano e la polizia si rende conto che i migliori indizi sono i resti dell'auto di Michelle. Come e perché sono divampate le fiamme? La polizia quindi chiama un esperto di incendi del Dipartimento Forestale e Antincendio della California. Dopo aver esaminato attentamente l'auto, l'uomo afferma che non ci sono tracce di benzina, cherosene o sostanze infiammabili. Quindi, quello non è stato un incendio accidentale. Dal modo in cui il veicolo era stato bruciato e dalla gravità dei danni, era ovvio che l'auto era stata incendiata. Si sapeva che l'incendio era iniziato sotto il volante del sedile anteriore, a partire dalla tappezzeria. Probabilmente all'interno dell'auto erano presenti delle cartacce che sono state bruciate. In seguito, le fiamme si sono diffuse. Questo è un modo davvero strano di incendiare una macchina. E ovviamente insospettisce parecchio gli agenti. Insomma, nessuno dà fuoco in quel modo ad una macchina. Era assurdo se qualcuno incendiasse la propria macchina per ricevere un risarcimento dall'assicurazione, utilizzerebbe della benzina in modo che bruci del tutto. La polizia a questo punto capisce che qualcuno aveva incendiato la macchina per sbarazzarsi delle prove. Michelle, però, resta una persona scomparsa. Dove si trova? Le autorità a questo punto si dirigono nei due ristoranti in cui la ragazza lavora. Magari riescono ad ottenere qualche informazione importante per trovare Michelle il prima possibile. Ebbene, tutti i suoi colleghi, nessun escluso, parlano benissimo di lei. La descrivono come una ragazza fantastica, simpatica, volenterosa, responsabile che porta a termine tutti i compiti prestabiliti. È sempre puntuale e resta sempre per assicurarsi che anche l'ultimo cucchiaino sia perfettamente pulito. I suoi capi, gli chef che lavorano in cucina, gli aiuto cuochi, i lavapiatti, le cameriere, tutti parlano benissimo di Michelle. Il punto è che nessuno ha idea di dove possa essere. Secondo la madre di Michelle, Matthew Sannisbury, il suo fidanzato, potrebbe essere davvero la miglior fonte di informazioni. Quindi, dopo aver parlato con i colleghi di Michelle, gli investigatori lo convocano in centrale per interrogarlo. Matthew e Michelle stanno insieme dal 2007 e si sono conosciuti al Shippa Show dove il ragazzo lavorava come cuoco. Matthew dice di aver sentito Michelle per l'ultima volta la sera prima al telefono verso le 21.45. Infatti, avrebbero dovuto incontrarsi alle 22.30, ma Michelle non si era presentata. Ovviamente, Matthew aveva provato a chiamarla più volte, ma il telefono era sempre spento. Quindi, era uscito di casa per poi salire in macchina ed era andato davanti a casa di Michelle. Ormai erano le 2 del mattino. Michelle però non era in caso, almeno così sembrava, perché la sua macchina non era nel vialetto. Quindi, il ragazzo aveva deciso di non provare neanche a bussare per non disturbare i genitori di Michelle. Matthew però dice anche qualcosa che fa drizzare le antenne nei detective. Sapeva che la sua ragazza avrebbe dovuto incontrare Josiah, ma non ne conosce il motivo. E, tra l'altro, non conosce neanche il cognome di Josiah. Gli investigatori ovviamente si domandano se Matthew sappia più di quel che dice. E, al momento, lo considerano un possibile sospettato. Quindi, gli chiedono se possono dare un'occhiata al suo cellulare. E, in effetti, il registro delle chiamate conferma la storia di Matthew. Per la precisione, il ragazzo ha chiamato Michelle sette volte tra l'1.51 e le 2.02. Matthew era preoccupato per Michelle, oppure ha fatto quelle chiamate per crearsi un alibi e per depistare le indagini? Per il momento, i detective non possono di certo trattenerlo. Quindi, lo lasciano andare dicendogli di chiamare in centrale in caso gli invenga in mente qualcosa di importante e di utile alle indagini. Nel frattempo, la famiglia di Michelle e il suo fidanzato, Matthew, iniziano a cercare la ragazza per tutta la città. La madre di Michelle, Sandy, non riesce proprio ad uscire di casa. Spera sempre che la porta ad entrata si apra e che Michelle varchi la soglia di casa, tornando come se nulla fosse successo. Quindi, le ricerche vengono condotte principalmente dal patrigno di Michelle, Darrell, e per l'appunto dal suo fidanzato Matthew. Durante le ricerche, Matthew rivela il vero motivo dell'appuntamento tra Michelle e Josiah a Darrell. La verità è che Michelle aveva incontrato Josiah perché doveva vendergli della sostanzina. Leggera, però. Darrell, a questo punto, chiede a Matthew se ha rivelato questo particolare alla polizia. Ma quest'ultimo scuote la testa in segno di Digniego. Aveva davvero paura di metterla nei guai. Darrell, il patrigno di Michelle, consiglia a Matthew di essere sincero al 100%. Quindi gli consiglia di riferire agli investigatori tutto ciò che sa. Il ragazzo, quindi, segue il consiglio di Darrell. Gli investigatori dicono al ragazzo che, in effetti, quel particolare potrebbe aiutarli nelle indagini. E gli chiedono perché non l'abbia riferito prima. Matthew, dal canto suo, dice la verità. Aveva paura di metterla nei guai e, in ogni caso, aggiunge che quella non era una cosa che Michelle faceva spesso. Ma solo qualche volta per riuscire a guadagnare qualche soldo in più. Inoltre, lei non ne faceva uso. Insomma, era solo un mezzo per guadagnare. Purtroppo, talvolta, sebbene avesse due lavori, il suo stipendio non era sufficiente per riuscire a cavarsela un mese intero. Gli investigatori, ovviamente, rispondono a Matthew che quello è l'ultimo dei problemi in quel momento. Michelle è scomparsa, devono ritrovarla. Ed è a questo punto che i detective hanno un obiettivo. Scoprire il cognome di Josiah. Nessuno conosce il suo cognome. E se ciò che dice Matthew è vero, è proprio lui l'ultima persona ad aver visto Michelle in vita. La cosa assurda è che mentre gli investigatori cercano di scoprire il cognome di Josiah per localizzarlo, è Josiah a chiamare il dipartimento di polizia. Al telefono dice che aveva scoperto da alcuni amici in comune che Michelle era scomparsa, quindi era preoccupato. Con questa chiamata, chiaramente Josiah dà anche il suo cognome, ossia Miller. Spiega che lui e Michelle in effetti si erano incontrati all'area picnic di Crescent Beach. Ossia, dove è scoppiato l'incendio. Chiaramente durante la telefonata Josiah non menziona neanche lontanamente la sostanzina. Anzi, cambia totalmente versione. Racconta che era rimasto a piedi e quindi aveva chiesto a Michelle se poteva raggiungerlo per dargli una mano a far ripartire la macchina, visto che era nei dintorni di Crescent City. E se ricordate, questa è la stessa versione che aveva dato agli investigatori la madre di Michelle. Il ragazzo spiega che lui e Michelle erano riusciti a far ripartire la macchina abbastanza in fretta. Poi avevano parlato un po' e alla fine Josiah se n'era andato. Dice che mentre si allontanava, i fari della macchina di Michelle erano ancora accesi, dunque era ancora all'area picnic, sana e salva. I detective, dopo questa chiacchierata, gli chiedono se possono andarla a trovare. Il ragazzo abita ad Arcaita, a circa un'ora e ventuno di macchina dall'area picnic, ossia a circa 120 chilometri a sud di Crescent City. Due investigatori si mettono in viaggio per raggiungere casa di Josiah Miller. Pussano alla porta d'entrata e il ragazzo apre accogliendoli in casa. Gli investigatori non dicono nulla a Josiah sulla sostanzina leggera, bensì lasciano che sia lui a fornire tutte le informazioni. Infatti, invece di fargli domande, i detective gli piazzano sotto al naso un block notice, invitandolo a scrivere tutto quello che ha fatto durante la giornata del 15 luglio, da quando si è alzato a quando è andato a dormire. In questo modo Josiah scrive di suo pugno la dichiarazione. Non riceve alcuna pressione? Non gli viene posta alcuna domanda? Una volta terminato, gli investigatori esaminano ciò che ha scritto. E in effetti Josiah è stato piuttosto specifico su tutte le azioni che ha compiuto. Spiega di essersi alzato presto per farsi la doccia e per andare a pesca con dei suoi amici. Ma non essendo esperto, non è riuscito a pescare assolutamente nulla. Poi dice di essersi spostato a casa di una sua amica di nome Tonya, a Fort Dick, dove è rimasto fino alle 21 per poi spostarsi nuovamente a Crescent City, col fine di cenare a casa di un'altra amica di nome Leslie. È chiaro che in quell'arco di tempo Josiah chiama Michelle e organizza l'incontro all'area picnic di Crescent Beach. A questo punto mi sorge una domanda. Ma Josiah non era rimasto a piedi con la macchina? In realtà Josiah spiega che la sua macchina stava iniziando a fare dei rumori strani e l'unica persona che conosceva, che abitava lì vicino e che ci sapeva fare con i motori era Michelle. Tant'è vero che era solita riparare la sua macchina, quando possibile, da sola. Dopo aver incontrato Michelle, Josiah era tornato verso Arcaita. Gli investigatori dunque chiedono a Josiah se il pick-up parcheggiato fuori casa sia di sua proprietà. Josiah ovviamente annuisce e i detective decidono di dargli un'occhiata. A questo punto però Josiah cambia atteggiamento. Prima sembrava collaborativo, mentre ora pretende che sia presente anche un avvocato. Ma soprattutto non vuole che i detective gli perquisiscano la macchina. Così i detective gli permettono di assumere un avvocato e si presentano nuovamente alla sua porta ore dopo con in mano un mandato di perquisizione per il suo pick-up. Notano immediatamente che la parte posteriore della macchina è stata pulita di recente. Ci sono ancora tracce di acqua e sapone sul pianale del pick-up. Il ragazzo sostiene di aver pulito il pick-up proprio quella mattina perché deve venderlo. L'esterno della macchina però non è affatto pulito. È pieno di fango e sporcizia. Quindi perché pulire solo il pianale del pick-up e non la carrozzeria? Inoltre un sedile posteriore della macchina è rotto. Josiah ha utilizzato un coltello per tagliare una parte di tappezzeria. Sembra peraltro che sia stata tagliata di recente in quanto l'imbottitura interna non è affatto sporca. I detective anche in questo caso chiedono spiegazioni a Josiah e il ragazzo spiega che il suo gatto aveva fatto pipì proprio su quella parte di sedile. L'odore era terribile e aveva provato a lavarlo in ogni modo eh? Ma quell'odore non spariva quindi non gli restava che tagliare la tappezzeria per liberarsene. Ovviamente i detective pensano che Josiah volesse sbarazzarsi di alcune prove. E ormai sono convinti che ci sia dell'altro. Pensano di non star più indagando su un caso di persona scomparsa. Infatti ahimè iniziano a pensare al peggio. Intanto gli investigatori sequestrano il pick-up del ragazzo per analizzarlo. Tornate al dipartimento di polizia verificano la dichiarazione di Josiah. Interrogano la sua amica Tonya che conferma la sua presenza in casa sua la sera del 15 luglio. La sua amica Leslie non è da meno conferma la versione del ragazzo. Era a cena a casa sua a Crescent City per le 22. Leslie però aggiunge che Josiah non si è fermato a cenare. È rimasto per pochi minuti, ha fatto quattro chiacchiere e poi ha salutato tutti dicendo di avere un appuntamento per le 22.30. E in effetti questo particolare Josiah non l'ha precisato. Josiah ha detto di essere rimasto da Leslie per cena. Cosa non vera. È dunque possibile che sia andato da lei per fare un saluto? E dirigersi a Crescent Beach per incontrare Michelle senza cenare? Terto è possibile. Eppure non c'è risposta alla domanda più pressante. Dov'è Michelle? In questo momento i detective hanno la macchina di Michelle che era stata incendiata a Crescent Beach. E un ragazzo di nome Josiah che aveva compiuto delle azioni a dir poco sospette. Solo Josiah e Michelle ovviamente sanno come sono andate le cose quella sera. I due si sono incontrati per la sostanzina come ha detto Matthew, il fidanzato di Michelle. Oppure per qualche altra ragione? Forse Matthew l'aveva seguita, aveva visto che si incontrava con un altro ragazzo e l'aveva presa male? Era geloso, aveva litigato con Michelle fino ad arrivare ad un tragico epilogo? Oppure Michelle era vittima di un affare finito male? C'è da ricordare e da considerare che Josiah nella sua dichiarazione ha affermato di aver visto Michelle sane e salva mentre se ne andava. Era in macchina con i fari accesi. Di conseguenza lo scambio doveva essere andato a buon fine. Forse a Michelle era successo qualcosa dopo l'incontro con Josiah? Era stata aggredita quando stava tornando a casa? Per gli investigatori il tempo stringe, le informazioni più importanti in questi casi si hanno nelle prime 48 ore. Quelle sono le ore più critiche ma in questo caso non va assolutamente in questo modo. Certo i detective hanno individuato i loro sospettati ma per ora brancolano nel buio. Almeno per quanto riguarda gli indizi. Nel frattempo anche la sorella minore di Michelle, Leila, con l'aiuto di sua cugina, appende dei volantini sulla scomparsa di Michelle in vari punti della città. Il 19 luglio del 2008, ossia quattro giorni dopo essere uscita di casa senza fare ritorno, Michelle avrebbe compiuto 24 anni. Nessuno sa dove si trovi e cosa le sia capitato ma tutti continuano a sperare per il meglio. Passa una settimana dalla scomparsa di Michelle. È il 23 luglio, quando a nord di Crescent City, nella contea di Kerry, in Oregon, due escursionisti e uno studente francese vedono qualcosa sotto il Thomas Creek Bridge. Il Thomas Creek Bridge è un ponte alto 105 metri ed è il più alto dell'Oregon. Ben presto uno dei due escursionisti capisce che quello è il corpo di una donna senza vita. Quindi chiama il 911 per segnalare il luogo in cui ha trovato il cadavere. Il sergente di pattuglia arriva sul ponte, alla stessa ora degli agenti di polizia dell'Oregon. Attraversano il ponte più volte per cercare di vedere il corpo dall'alto, ma non riescono a vedere nulla. Quindi scendono dal ponte e si dirigono sotto di esso. Non ci mettono molto ad individuare tra la boscaglia il corpo senza vita di una donna. Si domandano immediatamente se quello potrebbe davvero essere un omicidio, oppure quella ragazza si è buttata da sola dal ponte. O ancora, potrebbe aver avuto un incidente durante un'escursione. Il corpo corrisponde alla descrizione di Michelle. Ma gli agenti non si accontentano, cercano dei segni particolari per assicurarsi che sia realmente lei. E individuano immediatamente una cicatrice sul polpaccio che assomiglia al morso di un cane. Gli investigatori quindi avvisano lo sceriffo della contea, affermando di aver individuato la cicatrice che assomiglia per l'appunto ad un morso di cane. E lo sceriffo della contea conferma che anche Michelle aveva questa cicatrice. Ma non solo, riescono anche a riconoscerla grazie a dei tatuaggi. A questo punto non ci sono dubbi, gli agenti sono sicuri, quella ragazza è Michelle. Gli investigatori delimitano l'aria perché eventuali prove non vengano contaminate. La scientifica dell'Oregon fotografa la scena del crimine, mentre la squadra di ricerca recupera ogni prova utile. Le mani di Michelle vengono coperte da degli sacchetti per conservare eventuali tracce di DNA. Mentre i rilevamenti continuano, un sergente deve occuparsi di dare la terribile notizia alla famiglia di Michelle. È il 24 luglio quando Sandy trova la forza di uscire di casa. È in macchina con Darrell, stanno per uscire dal vialetto quando il sergente si ferma proprio davanti a loro. Appena esce dall'auto e cammina verso Sandy, quest'ultima capisce tutto inevitabilmente. Hanno trovato la sua Michelle, purtroppo senza vita. Sulla scena, intanto, gli investigatori fanno un'altra importante scoperta. Infatti è presente un'area pulita, come se fosse stata tolta la terra e qualcuno avesse iniziato a scavare una buca. Ma gli esperti della scena del crimine capiscono che il terreno è stato modificato dall'impatto del corpo di Michelle, presumibilmente dopo essere caduta dal ponte. Credono però che Michelle sia morta molto prima di toccare terra. Quando un corpo rimane nella stessa posizione per tanto tempo e il sangue ha smesso di circolare, può capitare che questo si depositi. E in questo caso si è depositato nei punti sbagliati, ossia sulla schiena di Michelle. Eppure l'hanno ritrovata su un fianco. Ciò indica che Michelle è morta da un'altra parte e che è rimasta sdraiata per un bel po', prima di essere portata al Thomas Creek Bridge. È a questo punto che il caso di una persona scomparsa si è trasformato in un caso di omicidio. E l'unico sospettato del crimine resta Josiah Miller, che durante la sua dichiarazione ha evitato di raccontare il vero motivo del suo incontro con Michelle, ossia acquistare della sostanzina. Insomma, gli investigatori sanno che Josiah sta mentendo. Ci sono degli elementi sospetti sul suo pick-up, ma soprattutto lui è l'ultimo ad aver visto Michelle in vita. Meno di 24 ore dopo la scoperta del corpo di Michelle nella contea di Kerry, in Oregon, il medico legale effettua l'autopsia. I risultati rivelano quello che gli investigatori di entrambi gli stati temevano. Michelle è stata uccisa, tuttavia la causa della morte è perfino più brutale di quanto immaginavano. Michelle è stata accoltellata per cinque volte e il colpo fatale l'ha ricevuto con la recisione della orta. Vista la natura delle ferite, il medico legale dichiara che Michelle è morta nel giro di un minuto per dissanguamento. Il corpo di Michelle non presenta ferite da difesa. Questo vuol dire che è stata accoltella sprovvista. Inoltre, non è stato trovato del DNA estraneo sotto le sue unghie. In pratica, i segni della lividezza fissa indicano che Michelle è morta prima di essere lanciata dal Thomas Creek Bridge. Ora che conoscono la causa del decesso, Josiah Miller viene arrestato ad Arcaita ed estradato nella contea di Kerry, in Oregon, dove viene trattenuto con l'accuso di villipendio di cadavere. Le accuse consentono agli investigatori di tenere Josiah in custodia mentre procedono con le indagini. Ma il tempo, ahimè, non è dalla loro parte. I detective hanno delle prove circostanziali sul sospettato e in California non sono sufficienti per far sì che un procuratore possa accusarlo. Per poter proseguire con le indagini, le autorità della contea di Del Norte lottano per la propria giurisdizione, dimostrando che l'omicidio è avvenuto nell'area picnic di Crescent Beach, quindi in California e non in Oregon. Se Michelle è stata realmente uccisa lì, potrebbero esserci delle tracce di sangue che non avevano notato, visto che non sapevano come Michelle era stata uccisa, ossia coltellate. Questo parcheggio dell'area picnic è grande quasi quanto mezzo campo da calcio, quindi i due investigatori si mettono immediatamente a fare delle ricerche approfondite e in effetti vicino a un tavolino da picnic uno degli investigatori trova qualcosa. Per terra nota una macchia scura, quindi chiama anche l'altro collega. Non sono sicuri se sia sangue o meno. Quindi utilizzano una sostanza chimica che crea fluorescenza. A seguito di questa reazione utilizzano una luce ultravioletta che conferma le loro ipotesi. Quello è sangue. Quindi ne prelevano un campione e lo inviano al Dipartimento di Giustizia per determinare se sia sangue umano e se corrisponde a quello di Michelle. Nell'attesa dei risultati forensi, gli investigatori si concentrano sui registri delle chiamate della vittima e del sospettato. Le chiamate effettuate la notte del 15 luglio aiutano la polizia a determinare la localizzazione. Ma c'è un problema. In quella zona non sono presenti molti ripetitori. Quindi non riescono ad ottenere delle informazioni dettagliate. Ma sono sufficienti per localizzare il cellulare di Josiah nell'area picnic di Crescent Beach. In realtà gli investigatori riescono a rilevare entrambi i telefoni in quel luogo. E riescono anche a capire il momento in cui il cellulare di Michelle si è scaricato oppure è stato spento. Ovvero alle 10.27 della sera del 15 luglio. Alla stessa identica ora in cui ha incontrato Josiah Miller. Infatti anche lui ha spento intorno a quell'ora il telefono e non l'ha riacceso fino alla mattina seguente. Mentre attendono le analisi del sangue, gli investigatori contattano le attività locali alla ricerca di un video di sorveglianza in cui si veda Josiah Miller nei pressi dell'incendio. E ben presto fanno centro. Il ragazzo è passato in una stazione di servizio a circa 2 km da dove l'auto di Michelle è stata bruciata. Alle 4.58. Vi ricordo che alle 5.22 è stato segnalato l'incendio. A dicembre 2008, 5 mesi dopo il ritrovamento del corpo di Michelle, gli esperti forensi scoprono che il sangue trovato nel parcheggio di Crescent Beach corrisponde con quello di Michelle. Grazie alla prova del DNA, il procuratore distrettuale Mike Rees riesce ad accusare Josiah di omicidio nella Contea di Del Norte. Mentre il caso viene portato in tribunale, il procuratore distrettuale presenta la sua teoria sulla notte dell'omicidio di Michelle, ossia il 15 luglio del 2008. Josiah aveva accoltellato Michelle più volte dopo averla attirata in un luogo isolato da sola. La ragazza si fidava di Josiah e quest'ultimo sapeva che sarebbe stata indifesa. Il ragazzo però non aveva i soldi per acquistare la sostanzina e non si parla di bricioline ma di 85 grammi. Non sono pochi 85 grammi. A quanto pare neanche Josiah voleva consumarla, bensì voleva rivenderla per guadagnare qualche soldo. Il ragazzo doveva dare circa 850 dollari a Michelle. Ma non avendo questi soldi aveva pensato di rubare a Michelle la sostanza con la forza. Ovviamente Michelle aveva provato a fare un minimo di resistenza. Quindi Josiah l'aveva accoltellata per evitare di attirare l'attenzione ma soprattutto per evitare che Michelle andasse in giro a dire che era un ladro. Quando Michelle è morta il suo sangue è caduto sulla ghiaia del parcheggio. Quel sangue i detective l'hanno trovato 16 giorni dopo. Josiah a questo punto doveva affrettarsi per capire cosa fare. Non poteva certo star lì a cincischiare. Quindi aveva caricato il corpo di Michelle nel cassone del suo pick-up. Ecco perché il sangue si era accumulato intorno ai fianchi e nella regione lombare inferiore della ragazza. Josiah aveva guidato verso la contea di Kerry in Oregon con in macchina il corpo senza vita di Michelle. E infine lo aveva gettato dal Thomas Kirkbridge. Dopo essersi sbarazzato del corpo Josiah era tornato verso Crescent Beach e si era fermato nell'area picnic prima dell'alba ovviamente col fine di dare fuoco alla macchina di Michelle. Poi era tornato a casa e aveva lavato ben bene il cassone del suo pick-up con acqua e sapone per eliminare le prove. La parte di tappezzeria che Josiah aveva rimosso dall'auto molto probabilmente era impregnata del sangue di Michelle. A questo punto durante il processo l'accusa chiede a Josiah dove sia la sostanzina perché loro durante le loro perquisizioni non l'hanno trovata. Josiah spiega che dopo aver buttato dal ponte Michelle ha iniziato a sentirsi incredibilmente paranoico quindi ha buttato via anche la sostanza. In pratica ha ucciso Michelle per rubarle la sostanza e poi, un'ora dopo, ha buttato via la sostanza che era il motivo per cui aveva ucciso Michelle. Il procuratore distrettuale Mike Rees, dopo essersi confrontato con la famiglia di Michelle ha offerto un patteggiamento a Josiah Miller. Non c'erano molte prove fisiche, non c'erano affatto testimoni e di conseguenza non c'era la garanzia che l'accusa avrebbe prevalso in tribunale. Josiah Miller nel 2010 ha accettato l'accordo prima di essere processato nella Contea di Mendozino. È stato quindi condannato a 11 anni di reclusione. La madre di Michelle, Sandy, in tribunale, si riferisce a Josiah dicendo questo. Questi 11 anni che affronterai dietro le sbarre impallidiscono di fronte a ciò che abbiamo perso in confronto a ciò che hai fatto. Ebbene, sappiate che Josiah neanche sconta tutti gli 11 anni di carcere. Infatti, dopo 6 anni, nel dicembre del 2017, viene rilasciato sulla parola. Rimane in libertà vigilata per 4 anni dopo aver scontato la sua pena. Oggi, quindi, è un uomo libero e mantiene un basso profilo. Quindi, non si sa assolutamente dove abiti e cosa faccia. La madre di Michelle ripete, oggi, che 6 anni di reclusione sicuramente non sono sufficienti. Anzi, sono davvero pochi. Ma la verità è che nessuno le riporterà in vita a Michelle. E a quanto dice, neanche una condanna all'ergastolo avrebbe alleviato il suo dolore. Quel dolore è sempre con lei. Probabilmente se lo porterà dietro, fino alla fine dei suoi giorni. Ci ha riflettuto molto su questo caso. Certo, se Michelle non avesse fatto il corriere di sostanzile, non avrebbe assolutamente corso nessun rischio. Però Michelle si fidava di Josiah. Non pensava che avrebbe fatto una cosa del genere. Assolutamente. Non aveva neanche il dubbio. Quello che ha fatto Michelle non è legale. Questo però non significa che si sia meritata ciò che è successo. Voglio rendere molto chiara la mia posizione in questo video. Non sto dando la colpa alla vittima, perché non credo che se lo sia meritato. Michelle cercava semplicemente un modo per fare qualche soldo in più. Ripeto, certo, ciò che ha fatto è sbagliato. Questo però non significa che meritava di morire. Ma voi cosa ne pensate di questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto, prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.